E ogni volta che mi ritorno, ogni volta che mi ritorno Una serata di musica e divertimento per tutti nel centro cittadino giuglianese. Ieri in piazza Matteotti la musica live della Tribute Band di Vasco Rossi. Cosa succede in città? L'evento ad ingresso gratuito innestato nel calendario promosso dall'amministrazione comunale per la Kermess dal nome per corsi culturali tra storia e tradizioni. Sarà un fine settimana ricco di eventi a Giugliano con spettacoli dedicati a Gian Battista Basile a Palazzo Palumbo e le giornate dedicate allo sport. Stasera siamo qui a piazza Matteotti per il Tributo a Vasco Rossi e l'estadio a Giugliano continua ancora. Domani ci sarà una bella rappresentazione teatrale e musicale a Palazzo Palumbo. domenica e lunedì il Comix nel segno del Basile e poi nei weekend eventi sportivi. Quindi è una tre giorni di cultura, sport e musica nella città di Giugliano.